Raffae, io gioco dalla season 1, proprio da quando è uscito il gioco, poi presto a me si sono uniti questi due un paio di mesi dopo Eccolo Enzo Crash! E' arrivato anche Enzo Crash Eh, non mi ricorda, no, forse io dalla 2 No, dalla season, proprio dall'inizio, da quando è uscito Fortnite E poi Peppe mi disse, oh sai dove è uscito questo gioco, bestemmiamo insieme, non è mai fatta E dopo un paio di mesi gioca molto insieme tipo alla season 2, si sono trenti Mi ricordo che ci vuole tutti i cittadini di scorrere, c'è, 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 c'è E' di sia bene, non lo so Quindi pienso quando scarsa la fai che gioco da quando è uscito il gioco e faccio così schifo Ti ricordi, beh, di sia bene, non lo so, sti giochi non è che mi facciano assai Eh, io so più tipo della FIFA Eh, sì, è ridicolo Ma i FIFA, ma il normale che mi ha già avuto quest'anno era ingiocabile FIFA E' stato giocabile E' stato giocabile E' 17 Ah, 17 Ah, 17 eravamo, no Dammi uno scudino e... Avevamo uno scudino, e che mi dai? E' la metri a ghietta bianca E' la metri a ghietta bianca La faccia un uomo bish Me la faccio all'indalata Può essere messi a scudi 25 Eppure noi penso che abbiamo più di 200 skin da febrato Quello che le cambia su soli per Eppure Eppure Ultimamente E' stato tenuto Beagle in Google E' sempre tenuto Eppure 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 appropriately Eppure 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 Mio Ce Isaiah Bosc.... Eppure I sarebbe da magna in grado per farla parte parlando fucile assalto blu qua vile d'assalto beagle sicuro la distributore non ho capito che ciò l'user non ho capito che vabbè io pure l'intensità ma tutto quando usavamo sempre stesso moda uscite spider man per un bolo c'è di vedere tanto lo spazio mandato anche in che senso c'è l'user è questo non l'ho capito la fele illuminati nel senso non c'era fuoco ho capito vince detto fuoco marrone mondo verde ballo del perdente c'è questo io non capisco ho fatto una missione ma pure balla circuito c'è anche il bombine brule boschetto bisunto me ne manca uno ma se sei debattata mandato tempo non mi ricordo nemmeno solo davano all'inizio del gioco oppure nostra c'è balla e balla secondo me ma la cosa lo boschetto sicuramente sì allora è una delle prime sicuramente la prima di vivi sono mangiato l'osso buco prima ma si è incastrato un pezzo di carne dei denti buon gare io non c'avo lo sacco lo tenivo sono mamma te ehi si dico questo qua oggi vado a chiarmi le cose di spiderman e a fare a quello oh pure io pure io aspetta vieni a me a pigiaaa vieni a me brennando brennando ho fatto tipo tipo camion eccolo ma non ho capito niente vince che voglio no le altre si sono prese veramente perché hai messo la live in pause e il presentatore tornare a presto su TikTok no non l'ho messo la live in pause è un'occhiata la bovice tipo maria doveva fare qualcosa ha messo in base ma se no ho fatto niente ah no ok perché c'era sta scaricando delle famiglie ci saranno ma non mi hanno mai preso e dopo rimetti ho messo la messa si è ripartito ma dove stanno scusate raffa e la chiama sempre in causa quella povera mamma e vabbè ma c'è anche una certa confidenza con la madre che è che è craccato quello ma io non sto capendo a chi sta facendo un venenno dove sta c'è mai credito muovere con fai apposta guida la merda ma infatti non lo faccio a posto guida veramente una merda com'è la situazione? mi sono strachiuso perché ci abbiamo anche indietro ovviamente dove? che stanno qua da te? allora un baraggio picciato là minaccia al massimo ovviamente io dico ancora cosa russo non lo ha mai preso è quello il problema quanto viene?! andora TOCCAAA GIU GIU ARABA ARABA GIU GIU E' DANA summer time it's summer time che la prossima che potrà sì il nostro bunker vi serve lo scudo perché non avendo la mia faccia sulle vostre sui vostri nomi non so se siete scudati oppure comprare la macchina altro sito che è successo l'ultimo che ha postato altri quanti qua e la mitraglietta viola qua vicino io prendetela vicino ai guanti ma rossa farà di giuro non la vedo cazzo staving posta il pino quanto ecco mi invatti se mi andrò da lì si è presi due guanti allora mi sparano porco dio maledetto arriva beh la pomace mi scatti sa che non dovevo lasciare quello sono nome e un po qualcuno mi copre a poco materiale ma già arrivato un attimo scudono 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 se vi serve arriva uno spiderman ma ci curio c'è anche ma lo stanno straccato quello sopra ma se noi siamo scatti ma perché e dai arriva un attaccio oh ma direi che stanno avvicinando una famosa una famosa una famosa una famosa c'è uno di vita c'ha merda mannaggia ma io venite qua c'ho la bomba lega sta bomba lega la metto la metto c'è cosa c'è anche mannaggia che decido idea a pagina ma la partita la partita ah io c'ho la jump io ne ho sei se ne ho sei ma non serve proprio niente però mi hanno Simone chiedi tu voglio te nemmeno e antonio non li sa usare non è che non li posso usare ma attacco fa avuto andai sambili dalla matta carina che elastica la vita che sporca e merda aspetta acceso cristo voglio mi va troppo nei denti il fatto che possiamo dire managgio gesù christo non posso dire piccoli stavolta perché perché per te la religione più importante non capisco secondo me invece è giusto che quello non si può dire che si può besteggiare ma che lo dici in effetti ha senso c'ha l'assenso ora è una questione di beagle è una questione civiltà ma chi è che me sta camman a nangar e come posso esidermi non so chi sta in live ma voi dovete sapere che appena vedo delle pompe di benzina che succede dentro spiegare dire non so no se ne è salvata se ne è salvata come dice valdo giovane già la facita all'ac bar stanno apposito e che non è malva quella non so se si vuol nemmeno quello si può che poi tecnica che tecnica e devo dire dio è grande quindi già è proprio religione appunto grande grande no non col fiera lascia questo blu ma c'è qualcuno che era la macchina e vicino che sia vincenzo spero sia vincenzo sì poi stavano le cose da dare al dinosauro si si vincenzo è deciso che piglia la macchina sarà davanti mi sparano dalla montagna mi continuano a sparare gli amici penso pensano che siamo forti grazie raffi grazie ti voglio bene anche però sto più simpatico dici la verità la verità dice la verità dici questa verità dici questa ragione si spara pepe pepe ho toccato mi hai sparato in via è perché ha fatto una scorreggio c'è un tipo una buzza di merda non è riavviato di là è proprio un culamano beagle is on fire voglio là in fondo è un po' troppo in fondo non li vedo terrato come l'hai terrato? niente qua da me eccolo no vincenzi traccato bianco mi piangerò tutta quest'anno quello di là l'ho ucciso quello che si spara da lontano quello che si è andato qua porca madonna sto qua dentro va giù? eh stavo provando ad innalzarmi ma ad innalzarti guarderò qualsiasi qua guarda guarda che gioco di merda sto atterrato il bot lo sento sta sopra eh ho visto eh mo ci sparano tutti e botto ovviamente c'è un mero oh salta la squadra dietro madonna che mi ha fallo mi devi stare con la montagna ci provo eh eh me ne vado pure a secondo a loro stavo uno là pepe stavo uno là eh stavo uno là eh è un impecoramento continuo il fatto è un impecoramento continuo il fatto c'è bianco questo qua di qua non ce la faccio più ma era uno ma pigliato eh non viene questo ma è morto eh tutto sangue è morto eh sì sì c'è un altro ancora perché non è morto subito sì quello avevo lasciato bianco che è scappato oddio questo c'ha c'ha lanciapatate oro e dietro ma bozzo no 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 non è mai bozzo non coglione io sono veramente un coglione da dove ha sparato sta dietro la roccia non sta più dietro la roccia oh è un shot qua fuori ho fatto buona serie vieni a qua facciamo cosa vediamo le insieme facciamo prima posso fare una proposta we use the power of friendship che proposta è indecente qui vedete qualcosa qui c'è solo le splash c'è non mi fate farne vabbè ho passato ancora là quello morto uno non è un attimo buono due ha tirato un altro sono morti tre contro uno io sì no vabbè è il gioco deciso per me vabbè la macarena tre contro zero direi buona per sera frato buonasera bebi malavita ciao bebi malavita buonasera bebi malavita bebi malavita bebi malavita eh